Scinà, 2 Uganda De Greppi, Piero Daluisi, 3 Atina Risaglia TRGF, G. Casella, 4 Bacco Ido, Giuseppe Pezzino, 5 Baia De Greppi, Francesco Federico, 6 Barcellona San, Samuele Di Caccamo, 7 Boris Lavamabel, Mirko Porzio, 8 Catch Me Boss, Marco Presti Filippo, 9 Crocodile Rock, Riccardo La Rosa. Pronostico orientato sul numero 3 di Atina Risaglia TRGF, primo avversario del 7 di Boris Lavamabel, terza forza il numero 8 di Catch Me Boss. Parte un po' più indietro il 7 di Boris Lavamabel, via la macchina con il numero 3 di Atina Risaglia TRGF, subito allo steccato, all'argo il 6 di Barcellona San, ancora il 4 di Bacco Ido, in seconda il numero 2 di Uganda De Greppi, in seconda paria subito Boris Lavamabel, primi 200 metri in 14,6. Va a chiedere strada a Barcellona San e su Atina Risaglia, ma non si passa, c'è disco rosso da parte di Gaetano Casella, in seconda paria c'è Boris Lavamabel, seconda la corda Bacco Ido, ancora il 2 di Uganda De Greppi, il 5 di Baia De Greppi, 31,1 i primi 400 metri. Numero 5 è squalificato, ha sbagliato il 5 Baia De Greppi, c'è sempre Atina che transita trotta i primi 600 metri in 45,9, c'è 14,8 di frazione, in seconda posizione c'è Bacco Ido, in seconda paria c'è Boris Lavamabel, ancora il numero 1 di Sirano Rab, ancora il 2 di Uganda De Greppi, primo passaggio davanti le tribune, dopo 1,2,2 i primi 800 metri, viene via in terza ruota Boris Lavamabel, che va su Atina Risaglia TRGF, che l'impegna, in terza ruota c'è il numero 1 di Sirano Rab, 17,5 è il primo chilometro, Atina ribatte a Boris Lavamabel, seconda la corda c'è Bacco Ido, ora si va a mettere, seconda paria, l'1 di Sirano Rab, via via tutti gli altri, parziale in 14,5, c'è un 29,5 questi ultimi 400 metri, Atina sempre stiracchia, di fuori c'è Boris Lavamabel, ancora il 4 di Bacco Ido, Sirano Rab, ancora Ketchimi Boss che è lontano dai primi, 15,2 di frazione, 1,47,3 i tre quarti di miglio, si va a affrontare il miglio con Atina che è ancora stiracchia a Gaetano Casella, comincia a prendere, a fermarsi un poco Boris Lavamabel, ora c'è la destra libera a Bacco Ido, 2,2 e mezzo il miglio, adesso sgabbia a Bacco Ido, comincia a scappare Atina Risaglia, di secondo si mette Ketchimi Boss, si sta entrando in retta d'arrivo con Atina Risaglia che comincia a comandare Gaetano Casella, che secondo ora c'è Ketchimi Boss che prova a venire via su Bacco Ido, Atina Risaglia che se ne va, ha fatto i conti alla grande Gaetano Casella, e vengono a vincere in 2,33 e mezzo, al secondo posto Ketchimi Boss, al quarto, al terzo, Bacco Ido, 1,16,8 in percorso di testa per Atina Risaglia, e vengono a vincere su Ketchimi Boss, al terzo posto ancora Bacco Ido. I colori del signor Michele Adriano Laporta, Franco Puccia al training, la guida è di Gaetano Casella. Grazie a tutti.